salve a tutti e ben ritrovati con cittadini di ultuan come al solito vi invito ad iscrivere il canale a lasciare un commento e mettere mi piace per aiutarmi aiutare il canale aiutare il video e ovviamente crescere tutti assieme siamo qui ancora con ronin contro sipa in questo caso beastman contro katai interessante ma è interessante perché comunque beastman non hanno una disciplina eccezionale possono finire abbastanza velocemente la benzina mentre katai è molto bravo ad oldare poi fatti danni sui pezzi singoli che ti sono rimasti interessante entriamo subito a vedere allora a questa parte abbiamo katzrak e ma il magro non me lo fa vedere lo guardiamo comunque doppio minotauro di cui uno della fama i butchers sono molto forti minotauri di beastman sono anche meno costosi rispetto a quelli di corn molto validi aiutano a penetrare la front line di katai in maniera molto più più semplice poi abbiamo ovviamente razorgore che portano un po' di ap dove serve è abbastanza massa un centigore ne vedo solo uno si un centigore tanta età tanti e tanti angored e gored con shield avevo visto anche dei co dove che sono a ecco anche degli zangor unità che nel roster dei beastman si trova molto bene costa un tantino però abbiamo tanta armatura scudo d'argento scudo che si rigenera ottime stat buona velocità bella giunta al roster dei beastman fatemi vedere il caster cosa si è portato caster e lord su carretto per scompaginare la prima linea ovviamente caster su carretto che si è portato tra i torkin e brace cream tra i torkin che è una spell molto forte a me piace tanto sicuramente un buon tool per l'output di beastman poi abbiamo per katai ovviamente due crowman molto utile per spottare tutte le unità invisibili dei beastman utilissime una front line d4 jade warrior abbastanza classica ormai la conosciamo pisan long spear sono solo due questo potrebbe essere un problema perché altri due dietro non avrebbero fatto male invece abbiamo quattro crossbow band forse anche qui un filo eccessivi ma sicuramente il danno lo hanno beastman non ha chissà con l'armatura quindi vanno benissimo poi abbiamo tanta cav quindi tre zade lancer due horseman pisant con un buon comparto di cavalleria probabilmente per andare in peeling su quella che è la front line il punto è che se tutta questa fanteria qui ti arriva ti circonde non hai la fanteria per ingaggiarla abbiamo poi zaoming con dragon's breath ovviamente pezzo forte picchia bene sicura se per caso va vediamo se è stato preso il braccialetto si 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 cura e prende anche damage resistance tra l'altro ricordiamo oggetto che era bugato fino a qualche tempo fa e dava il doppio della cura che avrebbe dovuto dare ronin molto furbo utilizza sia la la roccia qui che il boschetto per proteggere le sue unità peccato queste due salve gratuite sui butchers bispan ovviamente non hanno cura questi dovrebbero avere rigenerazione ma comunque hanno preso un po di dannini mille di danno hanno preso arriva il primo dragon's breath che fa molto bene sulle fanterie di beastman fanterie che vengono spottate immediatamente e katai può incominciare subito a sparare quant'altro trago che giustamente carica ma poi si ritira perché comunque ha visto qui c'è doppio minotauro se rimanessi incestato all'interno del doppio minotauro sarebbe un problema qui abbiamo i chrome che hanno caricato i razorgor vediamo perché sono arrivati eri sono arrivati senti core e razorgor a supporto devono sicuramente ritirarsi lato sinistro di katai che sicuramente è più tranquillo scusate lato destro di katai che è sicuramente più tranquillo lato sinistro che comunque sta incominciando ad intravedere tutta la massa di bestie che gli sta arrivando contro molto largo il beastman sta proteggendo comunque i suoi pezzi all'interno della foresta giustamente vuole ingaggiare le fanterie e poi arrivare a rimorchio nel frattempo zaoming cerca di delle iare di posporre di fare in modo che sia più tardi possibile l'engage con ogni singola fanteria razorgor che vanno in rampage questo potrebbe essere un problema perché razorgor hanno parecchia parecchia massa zaoming secondo me si deve cominciare a ritirare perché sennò rischia di prendere molti danni in maniera un po inutile non essendo prodotta la sua fanteria carica dei jade lancer ottimo insieme ai jade warrior in modo che non passino nel nel buco cannone che rischia di fa mamma mia il danno che che fa alle proprie unità cannone che avrei mantenuto a sparare sulla front line peasant spearman che devono andare a supportare la front line qui jade warrior non hanno abbastanza massa per tenere doppio minotauro zaoming dovrebbe incominciare a trasformarsi in uomo e incominciare a castare da quest'altro lato abbiamo un altro flanking di beastman arrivano i jade lancer che hanno armatura si ottimo guardate questi peasant come esplodono sono venendo mangiati dai centigore e dai razorgor back line molto 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 a rischio di catai front line altrettanto come vedete l'overload sia della front line che dalla back line è stato fatto nello stesso identico motivo i minotauri col fatto che sono più veloci le fanterie sono stati tenuti protetti nel boschetto i due lord i due carro pure poi cosa ha fatto ronin con i visti non ha caricato al centro su un'unica unità che era abbastanza indebolita comunque già impegnata ed ha sfondato tutto una volta arrivata al centro catai non ha più possibilità di riformare i ranghi ha dovuto riposizionare alcune unità per tappare i fianchi e a quel punto la sua mobilità in superiorità numerica ha ingaggiato quella di catai e ha dovuto distrarre altre unità in special modo cav che poteva essere utile per bloccare con la massa il minotauri è stata portata sul fianco e mangiata dai bucentaur come potete vedere qui in questo caso questi jade lancer tenuti un po fermini possono essere un rischio questi chrome che vagano per il campo di battaglia sicuramente non aiutano catai dovrebbero arrivare qui ad aiutare negli engage un pallino più tosti come può essere questo perché sennò ogni volta che il carro carica vedete un calo drastico del morale e delle unità zhaoming cerca di fare quello che può le unità da tiro non sono più tantissime basterebbe che tornassero online almeno sì due balestrieri diciamo che questi qui piuttosto che tirare sul lord esatto dovrebbero tirare sui bachelors ma non c'è la massa per tenerli in linea questi jade lancer dovrebbero ricaricare subito i bachelors la situazione non è sicuramente facile probabilmente dovrebbe chi gioca a catai dovrebbe lasciare stare più la fanteria cercare di portare in linea il tiro portare i lanceri su i minotauri e tentarla di portare a casa così sicuramente deve ricompattarsi qui abbiamo un'unità da tiro se si girasse iniziasse a tirare con doppia fanteria e una cavalleria che che holda con i crowman sicuramente la battaglia non è chiusa è sicuramente in salita per catai il giocatore di beastman sicuramente ha incominciato a terminare la benzina come dicevo prima ma le sue unità core sono ancora in linea anzi i bachelors direi che sono anche belli in salute i modelli ci sono ancora quasi tutti quindi il danno lo hanno sicuramente se prendessero due o tre sventagliate di tiro si ridurrebbero di numero ma non credo che il beastman però non gli concederà di tirare zhaoming è un po un po un pesce fortacqua l'abbiamo visto vagare per per il campo il lord mamma mia questo lord mi crato da dio non è assolutamente facile gestire i carri adesso doppio lord su carro così è sicuramente un'unità qui per stare attenzione quindi ottima dimostrazione di micro da entrambi arriva il minotauri i due minotauri a supportare kazrak e zaoming potrebbe trovarsi nei guai qui continuiamo a vedere come gli zangor vadano dritto per dritto sui jade warrior non credo che li raggiungeranno ma qua tutta la minaccia beastman si sta per concretizzare in un ultimo decisivo assalto e secondo me con ancora un centigore tutto tutto bello bello azzillo e un altro azzer gore questi jade warrior soprattutto questi che non stanno facendo un tubo all'inizio partita questi onyx crowman che vagano fanno vediamo se se ne è un'altra unità in giro no altro dragon's breath zaoming ancora in forma di drago sta scendendo parecchio di morale bisogna fare attenzione finalmente gli zangor vanno in route questi jade lance devono sicuramente andare a bloccare i bats e questo tiro qui deve sicuramente iniziare a tirare sui minotauri se no non c'è errore per esempio qui sarebbe stato meglio switchare i peasant che combattono contro i goreth non sono proprio una cosa eccezionale zaoming che va definitivamente al creatore e credo proprio che sia gg per i beastman mamma mia mamma mia mamma mia sicuramente non è facile gestire katai è una fazione che anche alla fine comunque mantiene alto il morale buone statistiche posizioni difensive ottime e quindi l'assalto di beastman non può permettersi mai di prendere fiato deve continuare sempre comunque a tirare dritti uccidere quelli che sono i pezzi importanti di beastman allora vabbè kazrak e il brace shaman ottimi ottimi carry gestiti da dio minotauri che hanno fatto veramente il devasto anche i sentigore hanno fatto molto bene razorgor che sicuramente hanno portato un po di ap dove serviva questi goreth e angoreth zangor che non hanno fatto chissà quanto danno ma si sono si sono tancati tanto tiro tanto danno delle unità di katai sono stati comunque molto fastidiosi da rimuovere gg al beastman per quanto riguarda katai abbiamo avuto vabbè zaoming che ha fatto sicuramente molto bene il cannone non eccezionale jade lancer hanno fatto discretamente bene gli onyx chrome hanno fatto bene ma non benissimo soprattutto questo non mi è piaciuto come è stato usato balestrieri non benissimo forse 4 sono un filino troppi mancava un po di di alta fanteria per bloccare tutta quella dei beastman i santosman che hanno fatto quello che che potevano fare hanno fatto bene e quindi abbiamo arresto la fanteria di katai che ha fatto sostanzialmente la chaff soprattutto perché al centro è stata sfondata dai minotauri detto questo io vi rinnovo l'invito a lasciare un mi piace di iscrivervi al canale aiutate me cresciamo assieme aiutate il canale anche e detto questo io vi saluto e al prossimo video arrivederci